Apri il tuo ufficio postale in franchising, siti post e anche pagamento bollettini, sitiposte.it Pedinamenti nel percorso tra casa e scuola, avanzo scenità al telefono e su Facebook, minacce telefoniche di morte anche ai genitori. E' ciò che accadde tra aprile e giugno del 2012 a una ragazzina allora 13enne di Senigallia. La giovane ha ripercorso la vicenda in tribunale ad Ancona. Ha riconosciuto l'imputato, Mohamed Badal, bengalese di 24 anni, ospite della Caritas. Era lui l'uomo che la perseguitava. Il giudice Paolo Giombetti lo ha condannato a dieci mesi di carcere e a risarcire con 4.000 euro la parte civile. Ero terrorizzata, mi seguiva ovunque, ha raccontato la minorenne. Per un mese e mezzo sono rimasta in casa e non uscivo se non accompagnata da mio fratello. Mi diceva, vieni qua che ti stupro. In un'occasione lei e un'amica sarebbero state circondate dall'imputato e dai suoi amici, tanto che fu costretta la ragazza a chiamare il fratello per farsi difendere. Badal ha però respinto le accuse. La difesa ha sostenuto che dai tabulati risulterebbe solo una telefonata dal cellulare del bengalese alla giovane. Secondo l'accusa, invece, le telefonate sarebbero state molte e con toni offensivi e minacciosi. Non ho paura di nessuno, avrebbe detto l'imputato, sgozzo te e tutta la tua famiglia. Su Facebook il 24enne le chiese anche se fosse cristiana o musulmana e la tempestò di frasi e proposte uscene. Lei tentò in ogni modo di farlo smettere, ma il bengalese avrebbe continuato a molestarla, almeno fino alla denuncia della ragazza. Tu c'est a dinero? Tu c'est a bettare.